Benvenuti in questo video dove senza troppi giri di parole vedremo la roadmap da affrontare per muovere i primi passi all'interno del blockchain development. E intanto mi voglio congratulare con te, sì perché tu sei qui a guardare questo video e ad imparare il lavoro del futuro, ed anche perché sei nel mondo del web 3.0 e diventando un blockchain developer potresti contribuire anche tu allo sviluppo di questo settore che è in continua evoluzione. Ma prima di tutto dovete capire che le blockchain sono diverse tra loro. Ad esempio abbiamo Ethereum dove scriviamo smart contract in Solidity, abbiamo Solana dove utilizziamo principalmente Rust e magari abbiamo anche Aptos che utilizza principalmente Move. E queste sono solamente alcune ma vi giuro che ce ne sono davvero tante altre. Fatta questa premessa possiamo iniziare. Innanzitutto quando si parla di blockchain developer hai davanti a te due scelte. Diventare un back-end blockchain developer, quindi occuparti della creazione degli smart contract ma in generale di tutto quello che c'è alla base di un progetto blockchain, come appunto uno smart contract è alla base di tutto. Fate finta di voler mintare un NFT. Ecco, quando voi volete mintare quell'NFT ci sarà un pagamento da fare e un NFT da ricevere. E questo è tutto gestito da uno smart contract. Oppure puoi diventare un front-end developer e lavorare su degli smart contract già esistenti per creare delle applicazioni web che si interfaccino con questi stessi smart contract. E adesso in realtà abbiamo anche una terza opzione, ovvero diventare sia back-end blockchain developer sia front-end blockchain developer. Quindi entrambe le opzioni di prima. Per diventare un back-end blockchain developer devi conoscere i linguaggi di programmazione che ti permettono di creare gli smart contract. Uno di questi è Solidity. E come vediamo qui, Solidity is a statically typed carlibresist programming language designed for developing smart contracts that run on Ethereum. È un linguaggio che assomiglia molto in struttura o in modo di pensare a JavaScript o Python. Quindi se conoscete già uno di questi due, o magari anche entrambi questi linguaggi di programmazione, ecco, imparare Solidity non dovrebbe essere troppo difficile, ma più che altro non dovrebbe essere troppo lungo. Perché Solidity, almeno per me, non è un linguaggio di programmazione che richieda tanto tempo per essere imparato, come molti altri linguaggi di programmazione in generale, non solo per blockchain developer, che esistono. Per scrivere uno smart contract, e in questo caso parlo proprio di scrivere il codice, potete utilizzare tranquillamente Visual Studio Code, che faccio vedere in moltissimi dei miei video. Oppure potete utilizzare un IDE, ovvero Remix. Remix è davvero molto utilizzato, e lo faccio vedere anche questo in tantissimi video. E qui potete scrivere i vostri smart contract, compilarli e testarli, anche prima di depositarli su una vera e propria blockchain. Infatti qui, oltre a blockchain reali, si possono utilizzare anche questi nodi finti, che contengono finti account da 100 Ethereum, per pagarci le gas fees per depositare uno smart contract di prova. Quindi è uno strumento molto utile, soprattutto per chi ha le prime armi. E poi, se tutto funziona correttamente, potrete anche depositarlo tramite Metamask, su una testnet, oppure una mainnet, come Ethereum. Puoi fare lo stesso anche localmente sul tuo PC, utilizzando un framework come Hardet, tramite il quale avrai una blockchain locale, valida solo sul tuo PC, per fare i test. E per usarlo ti servirà a conoscere JavaScript, che è utilissimo non solo per Hardet, ma davvero io JavaScript lo utilizzo per quasi tutto quello che ha a che fare con lo sviluppo blockchain. Poi abbiamo OpenZeppelin, the standard for secure blockchain applications. Sono specializzati in smart contract audits, ma in generale in sicurezza degli smart contract. E ci fornisce anche codici di partenza sicuri, molto scarni, ma invulnerabili a molti dei problemi di sicurezza che uno smart contract può avere. E questi smart contract molto basilari possono poi ovviamente essere modificati da noi developer per creare qualcosa di personalizzato in base alle nostre esigenze. Se invece vuoi specializzarti nel front-end, ovvero nell'interfaccia utente che poi andrà ad interagire con lo smart contract e conosci già di tuo JavaScript, che come ho detto prima è molto, ma davvero molto utilizzato e ti consiglio caldamente di impararlo, avrai utilizzato almeno una volta React e potrai integrarci Next.js, Wagmi o magari anche Ethers. Con Next.js, per esempio, si possono creare applicazioni web reattive che possono prendere informazioni dalla blockchain. Oppure Wagmi, si può utilizzare per far connettere un wallet alla propria Dapp e magari puoi creare una minting page come questa che vedete qui, che è della mia collezione, che poi tramite il pulsante Mint scali i soldi a quell'account che si è collegato e invii sempre a quell'account l'NFT. Un'altra cosa molto utile da imparare ad utilizzare è il Block Explorer. Ne esiste uno per ogni blockchain, come ad esempio Etherscan per Ethereum o Polygon Scan per Polygon. Qui si possono vedere le interazioni con la blockchain. Per esempio, se metto lo smart contract della mia collezione, che tra l'altro per ora è gratis, ecco che posso cercarla e vedere tantissime informazioni sul contratto, sulle transazioni avvenute e molto altro ancora. Infine, ci sono molti siti web, come Moralis o Tordweb, che forniscono aiuto ai neofiti per creare delle basi di smart contract che poi ovviamente vanno modificati o anche delle API, ovvero delle Application Programming Interface che magari una volta collegato al wallet, come ho fatto vedere prima ad esempio con Wagmi, permettano di integrare alla DAP dei servizi come magari farà apparire l'indirizzo con il quale ci si è collegati di Metamask magari, oppure ancora di far vedere il bilancio del nostro wallet di Ethereum o ancora i NFT che possediamo di una specifica collezione. Quindi alcune API sono davvero molto utili anche per creare dei siti web per i soli possessori di NFT, perché una di queste API ci permette di verificare se abbiamo un NFT o meno di una specifica collezione o meglio di uno specifico smart contract e se sì, ci farà entrare a dei contenuti esclusivi. Se no, non ci permetterà l'accesso. Ed anche per questo video è tutto. Io spero che ti sia stato utile e se così fosse, lascia like, iscriviti al canale ed attiva la campanella per non perderti i prossimi video sempre inerenti a questo mondo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!